Abbiamo in particolare, io ho fatto una fotografia molto analitica della città di Napoli, una città che in questi tre anni soprattutto ha vissuto una stagione di risveglio culturale e civile, di un'antimafia sociale dei fatti, di un'energia culturale, presenze internazionali e turistiche che non aveva mai avuto nella sua storia. E di fronte a questa fotografia di un grande impegno politico, anche di questione morale forte, negli ultimi tempi sono aumentati gli omicidi di Camorra e quindi bisogna evitare che questo sangue interrompa la rivoluzione e il riscatto definitivo della nostra città. Per poterlo fare bisogna lavorare tutti insieme, ognuno assumendosi le sue responsabilità, i risultati ad esempio in tema di videosorveglianza sono eccellenti attraverso il lavoro di squadra che è stato messo in campo e che si vedrà ancora di più nei prossimi mesi. Ho personalmente chiesto al Ministro dell'Interno, ai vertici del Viminale presenti, più presenze delle forze dell'ordine perché la domanda principale che oggi mi viene sottoposta dai cittadini, nonostante non sia un tema del Sindaco, è la sicurezza. Quindi nonostante lo straordinario lavoro che fanno forse dell'ordine e della magistratura nella nostra città, c'è bisogno di un rafforzamento che dia serenità a tutti i cittadini che vogliono poter passeggiare da Via Toledo a Via Pomeo al Corso Secondigliano e vivere la nostra città in tutti i quartieri. Deve crescere quel senso di sicurezza e di percezione della sicurezza. Detto questo abbiamo anche sottolineato di come Napoli continua ad essere in un trend di attrazione, di investimenti economici e culturali senza precedenti. Di questo il Ministro ha preso atto e credo che la riunione sia fruttuosa perché sono stati presi degli impegni precisi. Io sono soddisfatto perché qui a Napoli c'è un metodo istituzionale che può essere da esempio, c'è una collaborazione secondo me fortissima, ognuno nell'ambito delle sue competenze, tra prefetto, vertici delle forze dell'ordine, vertici della magistratura e città di Napoli attraverso la persona che è stata democraticamente eletta. Quindi si è parlato di questione morale, si è parlato di mura che abbiamo innalzato per evitare la penetrazione della camorra all'interno della politica della città, e questa è una notizia fondamentale, di come si fanno le gare al comune di Napoli, come si fa pulizia nei cimiteri, nel patrimonio immobiliare, di come vengono assegnati i beni confiscati, di come si fanno le politiche giovanili, come si fanno le politiche sociali. Insomma è stato un incontro vero, credo che oggi quello che maggiormente mi aspetto è una presenza più costante soprattutto nelle ore notturne da parte delle forze dell'ordine attraverso ovviamente un potenziamento che non può che venire con una disposizione del Viminale. Siccome l'ha detto anche il ministro dell'interno Pocanzi, che il dato negativo che oggi si registra a Napoli è l'aumento degli omicidi di Camorra, rispetto al panorama nazionale, credo che questo la dica tutta di come sia necessario uno sforzo ordinario, che non è né la militarizzazione della città né misure d'emergenza, semplicemente il rafforzamento delle donne e uomini delle forze dell'ordine di Napoli che fanno un lavoro egregio e straordinario a cui va tutta la mia riconoscenza da napoletano e da sindaco di Napoli.